Amici e amici bianconeri, bentrovati qui sul canale, secondo contenuto di giornata che registro poco prima della mia partenza perché prima di lasciarvi, tra l'altro non avendo la certezza appunto di riuscire ad essere con voi, magari passerò un po' di tempo mettono tempo brutto, quindi speriamo di no, ma dovesse essere che non si può frequentare la neve perché il tempo è particolarmente brutto avrò più tempo magari per leggere i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre idee, i vostri spunti e allora voglio realizzare questo contenuto proprio per capire voi come la giochereste alla luce poi di quello che ovviamente saranno i giocatori disponibili perché abbiamo appreso chiaramente della conferma della mancanza di Rabiot e di McKennie ieri dall'allenamento è uscito Claudicante e Federico Chiesa, le sue condizioni dovevano essere rivalutate oggi io penso non sarà nulla di grave, però vediamo e cercheremo di capire e allora giochiamoci un pochino questo Napoli-Juventus come se la giocherà Allegri e come vorrei giocarmela io e ovviamente spazio a come vorreste giocarmela voi prima di farlo, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso lato in fondo alla puntata sperando possa essere stato un contenuto di vostra compagnia allora, dunque, ieri sera ho avuto ancora una volta il piacere di essere ospite di Luigi Schifo su Radio Bianconera Colpo Gobbo e a precisa domanda su come la giocherei io io sono stato abbastanza esplicito non che sia una cosa che mi nasce oggi in virtù delle assenze di McKennie e di Rabiot è un'idea la mia maturata già in tempi non sospetti con un modulo che può variare dal 433 al 4231 anche con gli interpreti a disposizione di Max Allegri è chiaro, si fa per giocare, si fa per disquisire si fa per fare salotto e quindi poi trarre degli spunti capire le vostre opinioni, le vostre idee magari attraverso quelli che sono gli spunti di tanti di voi imparare anche cose nuove e soprattutto magari rendersi conto che quella tua veduta potrebbe non essere praticabile sul campo c'è Max Allegri con i giocatori quindi per noi è più un giocare diciamo così che non poter mettere realmente in pratica certe soluzioni però sono convinto che come accade nel primo ciclo quando Max Allegri si rese conto che per poter utilizzare tutti i suoi tenori dovete cambiare disposizione tattica assemblando quei giocatori e chiedendo il sacrificio ad alcuni di loro a tutti per la verità ma qualche di uno diciamo di più di altri lago della bilancia lo ricorderete Mario Mandzukic è un giocatore che per Allegri sarebbe andato in guerra come si suol dire in gergo sportivo ben sapendo che in questo momento parlare di guerra è sempre molto pericoloso quindi rimaniamo nell'ambito ovviamente dei nostri discorsi meramente sportivi e quindi è chiaro che per poter cambiare modulo oggi il sacrificio dovrebbe essere chiesto magari a qualche d'uno in particolare oltre che ovviamente a tutti i resti della squadra chi è il leader chi è il giocatore oggi che potrebbe fare un raccordo e poter consentire ad Allegri di cambiare questa disposizione che io reputo obsoleta che reputo ormai talmente usurata dal portarsi il nemico in casa perché la mia sensazione la mia paura la mia quasi certezza come ho avuto modo di raccontare appunto ieri ospite di Luigi Schifo a Radio Bianconera è stato appunto quello di vedere ancora una volta il 3-5-2 di Max Allegri solito atteggiamento tattico con il colmare le assenze di Rabiot e di McKennie magari spostando nel ruolo di Mezzala giocatori che a mio modo di vedere non debbono nella maniera più assoluta fare la Mezzala è chiaro parliamo di Cambiaso parliamo di Healing Junior parliamo di giocatori che sono già stati provati in quel ruolo per piccoli spezzoni uno dei due maggiormente Cambiaso può anche per qualità tecniche riuscire a ricoprire il ruolo ma io continuo a ritenerlo un esterno continuo a ritenerlo un giocatore talmente intelligente talmente polivalente con una grande orientamento del corpo in grado di gestire sia col destro che col sinistro l'orientamento e quindi il poter giocare la palla tranquillamente con ambedue i piedi ripeto talmente intelligente da poter entrare nel campo ed essere un'arma in più ma senza dimenticare che resta comunque un esterno e allora avendo questi giocatori nella fattispecie come penso giocherà Massignan Allegri non avrei dubbi Nicolussi Caviglia in cabina di regia Locatelli spostato nel ruolo di Mezzala poi quelli hai altri non puoi fare è chiaro che Miretti a quel punto diventa un giocatore spendibile nel ruolo di Mezzala avresti un centrocampo indubbiamente molto meno muscolare molto meno di forza e quindi io sarei per andare a Napoli con il 4-2-3-1 perché per me per gli uomini a disposizione sarebbe il modulo ideale chiaro ci devi lavorare anzi ci devi già aver lavorato per poter arrivare pronto ad una sfida e cambiare schema tattico ma con gli uomini a disposizione io andrei di 4-2-3-1 con chiaramente Scesni tra i pali Rugani e Bremer coppia di centrali Alessandro a sinistra con Cambiaso a destra e l'alternativa sarebbe Gatti a destra Cambiaso a sinistra però considerando il momento che sta attraversando Federico Gatti ecco forse un turno di riposo potrebbe anche fargli bene comunque al di là di quello lì c'è Max sa lui se meglio Gatti che Alessandro tra l'altro Alessandro se non domenica contro il Napoli presto raggiungerà il maggior numero di presenze di un giocatore impiegato da Max Allegri eguagliando quota 247 che significa agganciare Leonardo Bonucci dopodiché diverrà il giocatore che Max Allegri qualora lo facesse giocare ancora per due partite con più presenze diciamo con maggior impiego da parte dell'allenatore e a quota 6 presenze dalle sue attuali c'è l'aggancio allo straniero con il maggior numero di presenze in maglia bianconera che è Pavel Nedved sarebbe obiettivamente un mezzo insulto però va anche detto che per quanto stia facendo male negli ultimi tempi Alessandro resta comunque un professionista che comunque ha sempre onorato la maglia non è uno scansa fatiche per quanto riguarda il contenuto c'è il contenuto per quanto riguarda il centrocampo 4-2-3-1 Locatelli e Alcaraz nella posizione ah dimenticavo c'è Alcaraz chiaramente Locatelli e Alcaraz non Locatelli e Miretti prima nei centrocampisti del 3-5-2 comunque Locatelli e Alcaraz nel 4-2-3-1 coppia di centrali davanti alla difesa con i tre sottopunta Kenan Hildizia alle spalle di Dujan Vlakovic da una parte magari e dall'altra Federico Chiesa ecco questo sarebbe un uno diciamo una soluzione che io adotterei nella sfida contro il Napoli soluzione che obiettivamente potrebbe dare ancora qualche garanzia qualche spunto qualcosa di incentivante ad una squadra che deve uscire dal momento di crisi e va ad affrontare un avversario che proprio ieri ha maramaldeggiato a Reggio Emilia contro il Sassuolo vincendo per 6-1 una squadra che è quindi in ripresa sotto la cura calzona partita difficile partita che la Juve ovviamente dovrebbe assolutamente fare in modo di non perdere ma tra quella e quella che giocherà poi il Napoli contro il Barcellona obiettivamente io credo che la cosa fondamentale o maggiormente fondamentale sia che chiedo scusa sia che il Napoli non superi il turno per garantire poi alla Juve la partecipazione al Mondiale per Club lo dico ben sapendo che non è molto sportivo ma dovendo guardare in casa nostra per il bene della Juve chiaramente la Juve deve partecipare al Mondiale per Club e quindi quello secondo me è fondamentale che il Napoli non passi il turno per evitare che poi tolga e strometta la Juve dal Mondiale per Club Juve che ne ha tremendamente bisogno non che non ce l'abbia il Napoli ma ripeto commentando la Juve devo ovviamente riferirvi in questa maniera poi è chiaro importante anche la partita di domenica contro il Napoli partita di domenica che è una partita particolarmente difficile in un Diego Armando Maradona che sarà sold out con un Napoli in grande ripresa in pieno spirito positivo Osimè pericoloso e Juve che non può andare a fare la vittima sacrificale e il 3-5-2 senza gli uomini McKennie e Rabiot che tra l'altro già in difficoltà in questo momento con tutti i loro compagni sarebbe un po' come consegnarsi al nemico e questo auspico che non accada ditemi la vostra come giochereste la partita quale modulo con quali uomini sarà piacere leggerlo e magari con qualche spunto che può diventare interessante anche per il futuro ci sentiamo presto come sempre fino alla fine ciao